Tempo fa era un periodo in cui si parlava di fascismo e antifascismo e qualcuno diceva che l'antifascismo non aveva più ragione di esistere dal momento che non c'erano più i fascisti, però molti di quelli che lo dicevano avevano una strana faccia che ti faceva pensare che sì, vabbè, magari non esistono più però insomma. Comunque, tempo fa una rivista chiese ad alcuni scrittori di scrivere un racconto su un tema e il tema era da che parte stare. Io ho scritto un racconto che si chiama Los Fusilados perché ho preso spunto da un dipinto di Goya, dove ci sono alcune persone che vengono fucilate, un dipinto molto famoso. Goya parlava delle guerre napoleoniche, il mio racconto parla della guerra di Spagna. Si chiama Los Fusilados, appunto, e comincia così. Mi chiamo Libero Gramigna, libero come l'idea che non muore, Gramigna come l'erba cattiva che anche quella non muore mai. La canna del fucile mi colpì sulla bocca spaccandomi le labbra con un colpo che mi risuonò sui denti, secco come un ramo che si spezza. Ce l'avevano detto di star zitti, ma star zitto non sono stato buono mai, neanche da bambino, neanche con mio babbo, figurarsi coi fascisti. Così lasciai che il sangue mi colasse giù sul mento e sorrisi, mostrando i denti rossi all'ufficiale, anche se sentivo male, e molto. Erano solo cinque minuti che eravamo nel barranco e già si era tolto e messo i guanti mille volte l'ufficiale, annusando l'aria con quel suo muso da topo, i baffi stretti sulle labbra e gli occhi vicini, a spillo, sotto la nappa del berretto, la tenente della guarnigione di Granada. Accanto a me c'era un uomo in camicia che tremava, ed era lui che io parlavo, sfidando le botte dei fascisti e i sibili loro da serpenti, Adelante e io deputa. Era un poeta, l'uomo in camicia, e aveva paura di morire. Noi siamo così di famiglia, disse, gente che non sa stare zitta. Lo era mio nonno, ucciso dai carabinieri di Salandra all'assalto del comune nella settimana rossa, lo era mio zio, fucilato nella schiena perché anarchico e disfattista, e lo era mio padre, che è morto nel suo letto, ma solo perché è là che lo inchiodarono le bastonate dei fascisti, quando lo presero da solo in un agguato, ubriaco e disarmato, fuori dall'osteria. L'ufficiale alzò le labbra e squitti un ordine. Rapidi i soldati, curvi, neri e saltellanti come un branco di avvoltoi, ci strinsero contro una duna del barranco, spingendo indietro con i calci dei fucili. Il mio poeta era impallidito ancora, e aveva chiuso gli occhi, quasi come fosse morto. Facevo il violinista al comunale di Bologna, gli soffiai nell'orecchio tra le labbra insanguinate, perché mia madre aveva convinto un prete che io ero diverso, e non avevo grilli per la testa. Ci rimasi quattro anni a suonare puccini, verdi e mascagni, ma un giorno che arrivarono i fascisti di Arpinati, e pretesero che suonassi giovinezza, io feci come il grande maestro toscanini e rifiutai. A lui, lo sanno tutti, toccò uno schiaffo, ma io ne ebbi il naso rotto e un dente in meno, e quattro costone incrinate perché aveva attaccato l'internazionale, e se sono ancora vivo, e solo perché quello che mi prendeva a calce nella testa fu sicuro che mi aveva ucciso. Allora sono scappato, e sono stato tra i primi a venire in Spagna per combattere i fascisti, perché zitto io non ci so stare, e ci sono dei momenti in cui si deve far vedere da che parte batte forte il cuore. L'ufficiale aveva già la spada fuori, e i soldati si erano messi tutti in fila, col fucile appoggiato sulla spalla, e le canne su di noi, stretti a mucchio l'un sull'altro, contro la duna del barranco. Allora il mio poeta mi guardò, e mi parve che negli occhi la paura gli fosse scivolata un po' più in fondo. Libero Gramigna, gli dissi, e lui rispose García Lorca, e insieme ci voltammo verso i soldati, e mentre gli gridavo sparate brutti porci di fascisti, alzai le braccia in alto, con le palme delle mani aperte, e le maniche bianche della camicia gonfie del vento del barranco. Buon mitte 5 aprile, buona festa della liberazione. Buon mitte 5 aprile, 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 Grazie a tutti